Sono il più vecchio, il più forte, il più intelligente, odio le termite! Io sarei un buon capo se mamma me ne desse la possibilità! Sì? Beh, non credere che non lo faccia! Cosa? Oh, mamma! Mamma, ciao! Mamma, ho preso dei topolini per l'autogenati, li ho lasciati vicino alla... D'accordo...